Questa volta avevano deciso di colpire nella zona industriale di Piacenza. Avevano agganciato al proprio trattore stradale un semirimorchio carico di prodotti farmaceutici della ditta Doppel di Corte Maggiore, un bottino del valore complessivo di 60.000 euro. La fuga con il maltolto di tre pluri pregiudicati napoletani è però terminata poco distante, in autostrada nella vicina area di servizio Arda Ovest. Qui infatti sono stati catturati dagli operatori della Polizia Stradale di Bologna, che approfittando della sosta li hanno tratti in arresto. In manette nella notte sono dunque finiti un 27enne, un 36enne e un 49enne. La merce di semirimorchio sono stati restituiti ai legittimi proprietari. L'indagine è partita da tre analoghi furti messi a segno all'interporto bolognese di Bentivoglio, in ottobre sempre ad opera dello stesso gruppo. In quelle circostanze la banda aveva rubato un carico di elettrodomestici, materiale elettrico e pezzi di ricambio per auto di varie marche. Gli arresti sono stati convalidati dal Tribunale di Piacenza, i tre resteranno in carcere in attesa del processo.